Questa sera abbiamo presentato qui a Modena un nuovo sistema, un sistema Caparol particolare, che va oltre quelle che sono le concezioni normali dei sistemi ecologici e bio. Il nostro sistema si chiama Natureline e vuole essere la risposta per quanto riguarda il sistema Capotto rispetto alla sostenibilità ambientale. E' molto interessante per quanto riguarda la particolarità del materiale, della materia prima che utilizziamo, la fibra di canapa. E' un materiale facile da reperire ma anche di rapido accrescimento e quindi che ha un life cycle assessment, quindi un impatto ambientale molto favorevole. Per fare questo chiaramente ci avvaliamo di sistemi certificati, quindi la nostra azienda da sempre si occupa di sistemi Capotto e vuole entrare anche nel settore appunto della biedilizia, non solo con i classici sistemi che utilizzano come materiale isolante la fibra di legno, ma anche con un materiale nuovo, completamente nuovo, che va oltre quelli che sono gli standard della sostenibilità.